Alla 20.000 Alla 20.000 Alla 20.000 Siamo qui, Hotel Bestito 3 aprile 2015 Per i 18 anni, la nostra Maria Guardiamo le immagini Alla 20.000 Alla 20.000 Alla 20.000 Alla 20.000 Alla 20.000 Alla 21.000 Alla 21.000 Alla 21.000 Alla 21.000 Alla 21.000 Andrea, un pregio della festeggiata Molto simpatico Come se è stata mia sorella Difetto? A volte è antipatica Con i suoi pianti Con i suoi pianti Con i suoi pianti di Maria Facciamo un augurio alla festeggiata Dai Tanti auguri Maria Amici hollywoodiani Siamo in compagnia con il fidanzato della nostra festeggiata Maria Che si chiama? Michele Michele Michele, un augurio speciale Per la super festeggiata Dai Che dici? Tanti auguri Amore Ti auguro il meglio nella vita E spero di passare con il resto con me Wow Dopo questo bellissimo augurio Facciamo un saluto mega galattico Alla telecamera Ciao Amici hollywoodiani Siamo in compagnia con i genitori La nostra Maria Il papà Un pregio della festeggiata Dai Un pregio E' socievole E' solare E' bellissimo E invece un difetto E' a volte E' lunatica Lunatica E' E' bassa E' bassa Il resto è perfetta E' un ricordo da piccolina Un ricordo E' bellissima E' un ricordo Del papà La stessa cosa E' un augurio speciale Per il suo futuro E' un augurio speciale Salute E' soldi Facciamo un saluto Alle telecamere Di Oye Utelevision Ciao 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 E' un augurio speciale 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 Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti